Riprendiamo un discorso che abbiamo già iniziato molte volte, perché è un discorso che noi dobbiamo assolutamente approfondire e coinvolge direttamente l'aspetto politico della realtà sociale del nostro paese e di tutto l'Occidente. L'aspetto politico che è dato dalla interferenza di classi sociali che si mascherano da competenti, ma in realtà sono gruppi di potere che vogliono esercitare soltanto il loro potere. Tant'è vero che si in questa rivista pone una domanda molto chiara, ad esempio, profitto o scienza? Come ci è stato detto più di una volta, qui si scambia una volontà di potenza e di sopraffazione con una competenza che molto spesso non c'è. Noi abbiamo parlato e sta avendo un grande successo il nostro video dedicato alla terapia di Bella, che è una terapia alternativa e come tale avrebbe dovuto essere presa nella massima considerazione, laddove invece si sono tutti scatenati contro, adducendo non si sa quale competenza, adducendo non si sa quale informazione scientifica che in realtà non esiste assolutamente. Abbiamo già dimostrato, facendo vedere questa stessa rivista, e se scapita il tempo ne leggeremo qualcosa, dove si dice in maniera aperta, questa è una rivista ufficiale del Ministero della Sanità del Vaticano, è una rivista internazionale che va dappertutto, dove si dice in maniera molto chiara che tutte le riviste scientifiche, che poi sono il top, perché noi ci rivolgiamo a una gran parte di medici che non leggono nulla, quindi praticamente quelli che leggono poi leggono delle riviste dove i dati sono falsificati, semplicemente perché i dati dell'esperienza sono falsificati, perché quelli che pagano la pubblicazione sulle riviste sono le industrie, quindi le industrie pubblicano dati falsificati. Allora, più di così… Dati utili a loro. Esattamente. Falsificati utili a loro. In nome di chi e in nome di che cosa tu pretendi di dire che la terapia di Bella non è valida. E allora questa è la premessa, poi leggeremo se scappa il tempo, facciamo vedere internazionale, questo numero di internazionale in cui è denunciato in maniera molto chiara in quale maniera e in che modo l'industria falsifica i dati della ricerca, di qualsiasi ricerca, eccola qui. Quindi non è che noi ci riferiamo a pubblicazioni… Qualsiasi ricerca in ambito medico, farmaceutico, biochimico. Esattamente, esattamente quella. O beh, se falsificano qua ti immagini il resto. Ma entriamo proprio nel vivo della questione. Qui, in questa rivista, che è una rivista internazionale, che raccoglie e traduce articoli pubblicati in tutte le riviste del mondo, ultra selezionati. Qui le cose sono di una chiarezza estrema, eppure se scapperà tempo lo diremo, se no lo diremo un'altra volta. Quello che a noi interessa adesso è fare alcune precisazioni. Qui, ad esempio, c'è il concetto di scienza. Mi riferisco alla rivista Dolenzium Ominum. È l'insamina che ho fatto io qualche sera fa trattando con due ingegneri. Sì. In cui spiegavo la differenza che c'è fra disciplina e scienza. Esattamente. Allora, qui cita un nostro grande fisico, che fu, tra l'altro, mio amico, quando eravamo giovanissimi, eravamo ambedue negli scout. Che era il professor Nicola Cabibbo, al quale non fu dato il premio Nobel semplicemente perché era un cattolico. Lì, voi sapete perfettamente, cari amici, che c'è una precisa discriminazione. Di carattere religioso, difficilmente un cattolico arriva al Nobel, di sguincio forse qualche protestante. Bisognerebbe parlare un attimo del libro che ci ha mandato Giuseppe qualche giorno fa di Blondet, che è sul Talmud, che è emblematico. Esattamente. Allora, sentite che cosa diceva il professor Nicola Cabibbo, recentemente scomparso, che è stato per molti anni presidente della Pontificia Accademia delle Scienze. Ha affermato che i progressi della tecnologia guidati dalla scienza, che stanno rapidamente capiando il nostro modo di vivere e di lavorare, e la nostra relazione con il pianeta Terra, richiedono agli scienziati un'attenzione rinnovata alla dimensione sapienziale del significato ultimo della vita umana. Al tempo stesso, le grandi scoperte delle scienze moderne, che aprono nuovi orizzonti sulla struttura della materia vivente e inanimata, così come sulla struttura e sulla storia dell'universo, sono di importanza cruciale per il mondo della religione, ed ha perfettamente ragione. Non entro più nel merito perché qui vengono a urtarsi diverse concezioni di essere e di agire e di che noi vogliamo per il momento soffermarci. Allora, di recente, e sempre in questo giardino, abbiamo fatto vedere il giardino degli aranci o dei limoni o dei pompelmi, a seconda della scelta, capito? Il giardino delle verità rivelate, le potremmo chiamare. Allora, i nostri amici, quelli che ci seguono, sanno che da questo libro... Il titolo va bene, ecco, da questo libro si evince... Questo è una pietra miliare, va detto... Aspetta, drizzalo... La pietra miliare sulla verità rivelata, davvero. Esattamente, si evince che gli ebrei, che facevano l'usura, ma dovevano pagare una tassa molto consistente al Vaticà, ai preti. Ecco, diciamo questo, per illustrare, tra l'altro, anche l'ambivalenza del cattolicesimo. Perché abbiamo un cattolicesimo vero, che esprime il suo pensiero, che è più profondo, erede della cultura neoplatonica. E abbiamo una prassi della chiesa, che è quella che viene illustrata da Leon Podiakov, e ci fa capire come... La doppia anima della chiesa. Gli usurai ebrei erano solo una facciata, ma adesso proseguiamo. È stato detto a lungo la sanità ai medici. Era l'esecutore. Non la faceva, era l'esecutore. Esattamente. Il mandante era un altro. Esattamente. Come capita spesso, non è la prima volta e non sarà l'ultima. È chiaro che se questa organizzazione agisce in prima persona, e noi vediamo che agisce in prima persona, sempre agisce in prima persona, anche con le sue propagine all'ONU, e mi riferisco alla politica estera della chiesa, cioè della città del Vaticano, noi dobbiamo anche contare e tenere presente che questa organizzazione ha una sua linea di condotta e dobbiamo sempre valutare le scelte papali nell'ambito di una previsione di lungo periodo, perché una definizione della politica della chiesa è appunto quella di mirare al futuro, per cui non possiamo che applaudire in questo momento alla scelta dell'attuale Papa. non vorrei dire Papa pro tempore, perché non vorrei che avesse un incidente, il quale ha fatto degli accordi molto precisi con ambienti islamici della Siria, a favore della Siria stessa e contro i tentativi di invasione, di guerra e di distruzione che vogliono portare avanti lo Signore. Dopo averlo denunciato, Mario Orge Bergoglio, domani sera, anzi no stasera, andiamo a supportare la tua iniziativa, perché su questo fronte ci troviamo d'accordo. Allora veniamo a quest'altra faccenda, siccome noi stiamo parlando in questo momento delle accuse che sono state fatte contro la terapia di Bella, dobbiamo prima di tutto chiederci chi è che fa queste accuse, cioè questa medicina ufficiale, che cos'è in pratica. E allora qui noi abbiamo moltissima roba, però prima mettiamo le mani avanti. Abbiamo fatto vedere questa cosa perché è importante metterla come premessa. Allora, ma la medicina ufficiale, quella che accusa di Bella, ma che gente sono? Sicuramente i nostri amici si ricorderanno le questioni di quelle che furono chiamate farmacopoli, dove furono messi in mezzo un sacco di... De Lorenzo, Poggiolini, Compari, industrie farmaceutiche che sono sempre cavata di sguincio, medici che erano operativi, medici che eseguivano silenziosamente gli ordini, che prescrivevano prodotti assai nocivi ma assolutamente inattivi. Allora noi ci dobbiamo chiedere per quale ragione non dovrebbe essere un veleno la chemioterapia, ma quando mai? Ma quando mai? Se ce lo dicono loro, vuol dire... Se loro dicono che la chemioterapia va bene, vuol dire che va male. E allora facciamo vedere ai nostri amici, perché i nostri amici questi libri non li conoscono, facciamo vedere che noi abbiamo anche la documentazione esatta e precisa di quello che è accaduto ai tempi di farmacopoli. Il primo di farmacopoli è semplicemente emerso e è venuto a galla un porcaio ed un porcame che andava avanti da svariati decenni. Ma se ero un porcaio significa che venivano proposte, proposte, sostenute, propagandate, terapie assolutamente non valide, lo ripeto. Allora incominciamo a vedere questi libri. Aspetta, io voglio fare un attimo, ragazzo, a quel video che tu hai fatto qualche giorno fa, adesso non mi ricordo con chi, in cui parlavi, ah no, quel tuo intervento che hai fatto sulla disinfestazione della zanzara killer. Ah, vabbè. E lì è importante capire che la zanzara killer, che dovrebbe essere una specie protetta a questo punto, perché viene utilizzato un prodotto chimico a base di esafosfati che è esattamente lo stesso componente del sarin. Allora, per quanto riguarda il sarin, quel prodotto lì è da delinquenti... Il sarin e il tabun, queste sono le due sostanze da cui sono state ricavate anche la chemioterapia. Esattamente, tutto collegato. Allora, io ne ho parlato apposta, la chemioterapia, il sarin e le disinfestazioni chimiche. Sono prodotti esattamente identici, con piccole varianti, che però per un lato sono tollerate, per l'altro sono condannate, vituperate e per l'altro vanno bene. Com'è questa storia? No, ma gli vanno bene anche ai tagliagole che stanno in Siria. Com'è questa storia? Com'è questa storia? Che ce l'avevano loro e siccome non lo sapevano adoperare... Com'è questa storia? Ecco, siccome non lo sapevano adoperare... Cioè, lo stesso prodotto, con piccole varianti, a seconda dell'utilizzo, passa da essere il massimo negativo al massimo positivo. Esattamente. E non è corretto. Non è assolutamente corretto. Ma qui, allora, rientriamo nel merito perché dobbiamo far vedere queste cose. Perché queste cose dovrebbero essere illuminanti per i nostri amici. Altro, tra i tanti libri che abbiamo qui, vorrei tirarne fuori uno perché adesso mi sembra che sia la cosa più interessante. Bello, molto bello. Yogi Ramacharaka. È un libro di fine Ottocenti e inizio del Novecento. L'arte di guarire con mezzi chimici. È un maestro di yoga. Esattamente. Allora, noi sappiamo perfettamente che la guarigione avviene solo in una maniera, con la forza calma del carattere. Guarda, io ti dico una cosa. Io ho avuto un'esperienza, lo stavo raccontando prima a Regina, di un tumore nella fase adolescenziale tra i 14 anni e mezzo, 15 e i 16 anni. Ci ho combattuto un anno e mezzo, ho subito tre operazioni, ma io sono estremamente convinto di essere riuscito a sconfiggere il male perché volevo vivere. Esattamente. Io tutte le notti e tutti i giorni non dormivo steso sul letto, soprattutto negli ultimi tre o quattro mesi, e mi dicevo, mi autoimponevo questo unico dettato. Cioè io voglio vivere, io voglio vivere 24 ore al giorno per mesi. Certo. Molti che stanno a fianco a me sono morti e io sono vissuto. Esattamente, la forza calma di chi vuole andare avanti ed è sicuro di se stesso, ed è pieno del proprio sé. Tant'è vero che io a questo punto vorrei ricordare, capita spesso di vederli nei film, fanno vedere in questi film dove c'è qualcuno che è ferito, e che a un certo punto sta conciato male e che il medico dice no, questo sicuramente vive perché ha voglia di continuare a vivere. Infatti è vero, chi vuole vivere vive, chi si arrende muore e questa è la realtà della vita. Ma torniamo alle cose che avevo detto prima. Facciamo vedere i libri che sono stati scritti come autodifesa dai personaggi che avevamo prima citato, nominato. Questo qui è De Lorenzo, ricordiamoci che il ministro De Lorenzo, un cretino assoluto, gli avevano fatto credere, tutto ultraraccomandato perché era il figlio del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, e lui che una volta in televisione dice ma io potevo essere candidato al Nobel, gli fanno credere quello che vogliono. Mi ricorda quel film Miracolo a Milano, con Totò, uno dei più bei film, l'autore Zavattini. Che facevano vedere, che guardavano al cielo, i disenedati. C'era uno che gli diceva quanto sei bello, arrivava uno vecchio, vecchiso, scassato, quanto sei bello, quanto e chissà com'eri bello da giovane, ma che cosa avresti potuto fare da giovane? E io davano cinque lire, è la stessa cosa. Dice io avrei potuto, ma tu non sei capace nemmeno di fare il truffatore, ti hanno messo a fare il ministro. Ma quale ministro? E poi dicono, capito, i medici alla sanità, questi sono i medici, capito? Il lupo cattivo, allora per difendersi, questi qui hanno scritto ciascuno il loro libretto. La memoria. E questo qui l'ha scritto, accusando ovviamente gli altri, però siccome ciascuno accusa l'altro, è uscito fuori la verità, per intero. È un circuito in cui ognuno accusa l'altro, per cui alla fine ognuno è accusato da chi lo precede o da chi lo segue. Cioè, la stessa gente che impunemente prescriveva il cronassial, è la stessa gente che diceva, anzi che faceva prescrivere il cronassial, perché aveva l'imprimator di una certa premia Nobel, è la stessa gente che poi diceva che la terapia di Bella non andava bene, senza sapere né cos'era il cronassial né tantomeno cos'era la terapia di Bella. Qui c'è una piccola presentazione nel retro del libro, il lupo cattivo nella notte di Tangentopoli, il simbolo del malaffare che con bieco cinismo ha speculato sulla salute degli italiani. È vero. È inutile che tu lo metta così per dire che sono dell'esagerazione. È vero. È lui, Francesco De Lorenzo, che ha intascato Tangenti facendogli evitare i prezzi dei farmaci. che ha ridotto la sanità, un colabrodo che ha speculato sui malati di AIDS. È vero. E De Lorenzo ha preso le tangenti non perché le prendeva lui, perché li hanno sempre presi i ministri della Sanità. Tutti quelli che vanno a fare il ministro della Sanità vanno solo lì per prendere le tangenti. Come tutti i ministri. Esatto. È solo per quella ragione. Chi è realmente De Lorenzo? Lo rispondo io, uno stronzo. Quali sono le sue vere colpe? Colpe di essere stato uno stronzo e di aver creduto a quello che gli dicevano in famiglia. Che poi in privato, io lo so cosa si dicevano tra di loro, i veri familiari, fratelli e padre. E infatti l'hanno fatto fare il ministro della Sanità. Era l'ideale per fare il ministro della Sanità. E se lo avessero usato come capro espiratorio? Sì, l'hanno usato come capro espiratorio. Ma ciò non toglie che lui non fosse un cretino e un delinquente nel contempo. Proseguiamo. Poggiolini. Niente altro che la verità. Eh, non mica c'è solo De Lorenzo. C'è anche Poggiolini. Che dice, io non c'entro niente alla colpa di De Lorenzo. Tutti i diritti d'autore di questo libro saranno devoluti a favore dell'istituzione benefica Veneto Solidarietà Televita. Ma basterebbe che dei miliardi che ha incassato... Viene da un decimo. Viene da un miliardesimo invece di devolvere quello che ha guadagnato alla vendita di questo libro che ne avrà vendute se no cinque copie. Tra i quali ci sono io, perché io sono uno che ci interessa. Gli altri non gliene frega niente, quindi il cavolo mi vengono a raccontare. Niente altro che la verità. E qui, sempre sul retro del libro. Titolo provocatorio, forse, ma titolo esplicativo sicuramente. Questo libro vuol dare, soprattutto a coloro che non hanno una conoscenza diretta dei fatti, tutti in Italia, se non attraverso ciò che è stato riportato, con le inevitabili imprecisioni e generalizzazioni dai mezzi di informazione, una chiara immagine ed un'idea esatta di una vicenda e di una figura, certamente fra le più discusse dei nostri tempi e della nostra società. È vero. Molto è stato detto in effetti, ma poco è stato realmente conosciuto e approfondito. Caduto dalla stima generale alla condanna unanime, studioso di fama internazionale, infatti era stato mandato dalla farmindustria, dal sindacato degli industriali farmaceutici, alla presidenza dell'ente farmaci dell'Europa, per mistificare, per trafficare, per corrompere. Ecco la fama internazionale di Poggiolini. Dalla competenza tecnica universalmente riconosciuta, e lo sappiamo, capito? Direttore generale del servizio farmaceutico italiano per due decenni. Ma scusa, noi abbiamo avuto direttore generale, io lo conosco molto bene, dovrei fare la mia storia che in questo momento non faccio, chi me la vuole chiedere glielo dico. Lui è stato direttore generale del reparto farmaceutico per due decenni, ma ci vogliamo rendere conto di chi era? Questo era uno che doveva essere mandato a pulire i cabinetti dei cessi dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'ente più inquinato d'Italia. Lì doveva andare a pulire i cessi. Duilio Poggiolini racconta in questo libro per la prima volta tutta la verità sul suo ruolo, sulle sue lotte, sugli errori commessi, che spontaneamente ammette, te credo. Perché non hai restituito? Gli hanno ridato tutti i miliardi che gli hanno... L'hanno incastrato in tutti i modi. Gli hanno ridato, perché c'era una regalia dell'industria farmaceutica. Dimonio, se tu fossi onesto, gli avresti dovuto comunque dare. Ma sai a chi? All'istituzione benefica Veneto Solidarietà Televita. E io non vado a cercare chi sono questi. Non è importanza. Perché è molto probabile che tu, Duilio Poggiolini, tu sia il massimo azionista di questa Veneto Solidarietà Televita. E a me non mi frega i Poggiolini, capito? Vallo a dire amici tuoi. Allora. E anche su tutte le deformazioni infamanti, che ovviamente rifiuta. E' certo che lo rifiuta. Al di là, è lui un rifiuto, per dire aiuto a mettere i... Nei cassonetti. Vi ricordate quel bellissimo film, c'era una volta in America, dove alla fine quello, il multitraditore, sì, il multitraditore alla fine si butta nel cassonetto, muore, si suicida. Quando il suo amico gli rifaccia, che lui l'aveva tradito, ma non so di che... C'era una volta in America. Eh? I grandi film, c'era una volta in America, di Sergio Leone. Ah, sì, sì, sì. No, non me lo ricordo. No, non me lo ricordo. Della malavita ebraica in New York. Italo-ebraica. Italo-ebraica. No, erano tutti ebrei, quindi. Ah, è vero, è vero. Eh no, sai, bisogna fare il distinto. È vero, è vero, è vero. Il rassismo subentra in certe cose. È vero, è vero. Accordi sì, ma... Ve lo ho visto molti anni fa, non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Al di là di aprioristiche e scontate condanne, una testimonianza da ascoltare, una possibilità di replica che è giusto concedere. Io a te non ti concedo proprio niente, perché tu sei un cialtrono, un mascalzone, un deliquetto. Andrea Cinquegrani, Rita Pennarola. Questi sono due grandi giornalisti e non a caso scrivono su un giornale poco letto che si chiama La Voce delle Voci. che noi leggiamo, però. Dicono sempre le cose vere. Viaggio nella De Lorenzo Spa, un'azienda che scoppia di salute, ecco qua. Scoppia di salute. Leggiamo anche qui quello che ci è scritto dietro. Il padre Ferruccio lo chiamava De Lorenzo dei Medici. Aspettate, fa intervenire. Dicevo che forse si tratta... Regina. Forse si tratta soltanto di chiarirsi su chi deve star bene con i farmaci. Cioè se devono stare bene le società che lo producono o se devono stare bene i pazienti. Perché questo non è chiaro per niente. Esattamente. Cercano in tutti i modi di confondere le idee. Nel momento nel quale la floridezza delle industrie farmaceutiche corrisponde all'abuso assoluto dei pazienti, allora bisogna forse fare un passo indietro e dire un attimo, ci ricordiamo che le medicine servono per far stare bene i pazienti. Evidentemente hanno fatto di tutto. I pazienti invece di essere il fine sono strumento. Strumento. Assolutamente strumento. È strumentale il cittadino e l'utente. Il paziente è strumentale all'impresa farmaceutica. Alla floridezza dell'industria farmaceutica. Infatti in questi anni ne sono usciti tanti alternative valide e opportunità. ricordiamoci il dottor Hamber in Germania che gli hanno fatto passare i guai. Abbiamo fatto dei video favolosi in galera quando hanno potuto. Simoncini che è stato radiato dagli ordini medici. No, no, è rientrato Simoncini. È stato riammesso. Non c'era nessuna ragione per radiarlo. Dirò di più. Cercano in tutte le maniere di infamarlo, ma non ci riescono. Ricordo che lo stesso destino fu destinato a suo tempo, avvenne per un medico che era il dottor Aldo Vieri, il quale faceva una terapia perfettamente legittima, solo che io l'ho conosciuto molto bene perché all'epoca collaboravo con una rivista che si chiamava La coscienza del medico, e andavo a intervistare tutti questi medici cosiddetti alternativi. Lui fu radiato, ma non potevano radiarlo dall'ordine perché lui utilizzava una terapia che poi faremo vedere perché io qui ho... Non allargherai il discorso se no non ci... No, io ho un catalogo farmaceutico di prodotti farmaceutici dove faccio vedere che questo prodotto che utilizzava il dottor Vieri era un prodotto regolarmente utilizzato nell'industria farmaceutica. Questo è il catalogo della ciba farmaceutici. Dopo lo faremo vedere perché questi a noi non ci fregano. Le fregheranno i coglioni che gli danno retta, ma a noi non ci fregano. Allora, ritorniamo qui. Il padre, Ferruccio, lo chiamava De Lorenzo dei Medici. Il figlio, Ferruccio Junior, a vent'anni, è già in sella al rutilante business di famiglia. In mezzo a due generazioni, lui Francesco, quasi Nobel, che sempre gli facevano credere che lui era quasi Nobel, ma sono cose che aggacciano... Ma che ne sai tu del premio Nobel? Di arrivismo perversivo proprio. Buffone, che ne sai della ricerca? Che ne sai cosa implica la ricerca vera, seria? Implica decenni e decenni di fatica, di sudore, ma buffone. Di topo di laboratorio. Per anni artefice... Non i topi legali, ma tu che fai il topo di laboratorio. Si rischiaffasse in culo i topi di laboratorio, giusto quello potrebbe fare. Per anni artefice imperturbabile della salute degli italiani, finisce al centro del ciclone Scambiopoli, capace di far tremare i polsi a personaggi e istituzioni della vecchia guarda nazionale. Viaggio indiscreto nella De Lorenzo S.p.A. tra uomini, business, storie e la che sul viale del tramonto. Ovviamente i la che sono questi, ovviamente. è chiaro, Poggiolini e compari la moglie di Poggiolini. Lady Poggiolini. Tant'è vero che noi leggiamo anche questo. Ah, Mr. and Lady. È una bella storia. Eh, Sandro Ruotolo, vedi? Questa è una bella storia. Michele Santoro. Questa è una bella storia. Non è che sia un trittico molto convincente. Però, vabbè. Quando scrivono, scrivono. Gli strani affari del Vaticano. Il ruolo della massoneria e della P2. di illustri luminari della scienza medica e politici del rinnovamento. Forse c'è perfino cosa nostra nell'allucinante scenario di una sanità pubblica al servizio di affaristi e imbroglioni dominato dagli interessi delle multinazionali del farmaco. Mi sembra che sia una definizione. Qui però bisogna fare una precisazione. Chi sono i veri azionisti di maggioranza delle varie congreghe, delle assemblee che detengono il controllo di queste industrie farmaceutiche? Andiamo alla radice del problema. Ma sono sempre loro. Diciamolo bene però. Allora, siccome noi prima avevamo fatto vedere ai nostri amici come i veri strozzini non erano gli ebrei che erano l'ultima propagine, ma i papi che si facevano pagare per avere la patente dagli ebrei che esercitavano lo strozzinaggio, leggiamo come risponde il buon Poggiolini a alcune domande di questi giornalisti, Silvestro Montanaro e Sandro Ruotolo, dice quello che vi sto raccontando è un vero e proprio sistema di sovrafatturazione, reso possibile da rilascio in grande quantità da parte di case farmaceutiche estere a ditte operanti in Italia di licenze per la produzione di farmaci esteri in Italia. Cosa avveniva? Avveniva un meccanismo che mi ricorda tanto quello delle patenti che il Vaticano e la Chiesa davano agli ebrei per fare l'usura. Premettiamo una cosa importantissima. Perché non era permesso agli ebrei di fare l'usura? Perché la Chiesa aveva emesso alcuni bandi che minacciavano di scomunica i cristiani che si fossero recati dagli ebrei per farsi prestare i soldi. In una delle varie fasi, perché non è sempre stata così, però in una fase è stata anche così. Allora, dice però, però, se vai… Se baci il cordone… Se baci il cordone e se vai ovviamente dall'ebreo che ha la… La licenza. La licenza. C'era una frase che era più bella di licenza. Vabbè, la patente. Oggi la patente la danno per guidare. All'epoca la davano per esercitare l'usura. Però se vai da quello… Quello è esentato. Quello non sei… Con gli altri pecchi. Con gli altri sì. Il discorso dell'esafosfati. Esattamente. Fosfati, l'esafosfati. Esattamente. Ma lì è condannabile, censurabile, è un atto criminale. Vai di qua invece è lecito. Se l'ebreo ha l'autorizzazione, che gli costa ovviamente, allora per te cristiano non c'è la condanna. E se vuoi la soluzione… Come la banca centrale europea che stampa criminalmente biglietti a usura e autorizzata. Il falsario napoletano è perseguito. Che magari si mette pure la firma, a differenza di Draghi. E magari gli fa pure meglio. Oltre tutto. Sì, ma infatti c'era quella battuta molto bella riportata da Pitigrilli, da grande Pitigrilli, in relazione al falsario. Dice il falsario è uno che stampa monete in maniera molto più bella. Come riconosci che una carta moneta è bella, è fatta molto bene. Quella è falsa. Andiamo avanti. Dobbiamo spiegare qual è il sistema. Il sistema era molto semplice. C'erano una miriade di piccole e medie aziende italiane, con quelle che si sono battute in maniera drastica contro… Tipo Farmitalia? No, no, Farmitalia era una diventata serie, per quello l'hanno distrutta. Carlo Erba, Farmitalia, quelle erano serie. Le Petit, quelle erano tutte serie. Tavano una miriade di piccolissime aziende, che avevano tra l'altro in mano anche il sindacato degli industriali farmaceutici, la Farmindustria, che invece di fare ricerca, invece di spendere dei soldi che comunque avrebbero prese, ricattavano le multinazionali. Alle multinazionali gli dicevano, voi che noi… Siccome loro avevano in mano il sistema delle registrazioni in Italia, attraverso i vari poggiolini, loro gli dicevano, dacci a noi la concessione di quel prodotto… E noi ti facciamo andare tranquillo… Noi ti facciamo dare l'utilizzazione di vendita, però ci dai lo stesso prodotto a noi, noi lo commercializziamo con un altro nome, no? E lo mettiamo in vendita tranquillamente. Cosa succedeva? Succedeva che la spinta di mercato della grande multinazionale, che di per sé stessa era sufficiente a crearsi un mercato, veniva moltiplicata per mille, perché dietro c'erano tutte queste miriade di squali di industrie farmaceutiche italiane che reclamezzavano e pompavano questo prodotto, per cui quel prodotto che in Inghilterra faceva, che ne so, mille pezzi al mese, in Italia faceva centomila pezzi al mese, capito? Ed erano centomila pezzi fasulli, cioè che erano forzature di mercato, solo che siccome dietro c'era una spinta economica, c'era la corruzione dei medici, quindi c'era un'abitudine di queste aziende a corrompere i medici perché venissero prescritte i prodotti con il loro nome, allora noi abbiamo avuto questa spesa enorme che era propiziata dai vari Poggiolini e De Lorenzo, che facevano parte del giro. E' importante anche da questo punto di vista ricordare che se in Italia si sono imposti i cosiddetti farmaci generici, cioè quelli senza nome, e si sono riusciti a imporre con un enorme ritardo, perché queste aziende truffaldine italiane si sono battute anche per il tramite proprio di Poggiolini, il quale aveva aumentato i tempi del brevetto in modo tale che i prodotti non fossero immessi col nome commerciale e costando esattamente a volte anche la metà del costo reale. Anche meno della metà. E questo è stato il ruolo svolto. Abbiamo un minuto? Ci abbiamo di più, ma siamo a 34 minuti. No, voglio concludere questo qui perché è importante. Eccolo che vi lascio in grande quantità da parte di case farmaceutiche estere a ditte operanti in Italia di licenze per la produzione di farmaci esteri in Italia. Produzione, per moglie dire, perché il prodotto base glielo davano loro. E' per questo che vi sono forti pressioni da parte delle case farmaceutiche italiane per ottenere licenze per la produzione di farmaci esteri. Ad esempio, questo sistema di sovrafatturazione ha funzionato per l'acquisto dal Brasile di gangliosidi, materia prima utilizzata per la preparazione del cronassial prodotto dalla Fidia. Mi risulta infatti che l'acquisto della materia prima viene fatturato riportando un prezzo eccessivo rispetto al costo reale. Noi sappiamo che assolutamente non è vero. Perché il cronassial che era dovuto a una lavorazione del cervello dei buoi non costava niente la ditta Fidia, perché la ditta Fidia lo comprava direttamente il bue. Poi il bue lo vendeva e il cervello che non gli costava niente lo fatturava come acquisto del cervello. Guardate un po' che giro c'era dietro un'organizzazione che propagandava un prodotto che oltre a non far niente ammazzava le persone, ma era propagandato con l'imprinting di un noto premio Nobel che noi chiamiamo italiano. Dice il premio Nobel il tal d'Italia non si tocca, diceva uno, capito? Te credo, chissà quanti soldi si è girati. Dice quella tale lì non si tocca. È morta, è morta. È morta, finalmente. Gli hanno dato il cronassial per guarire. Finalmente è morta. Ce l'ha messo un bel po' d'anni e alla fine è morta anche lei. Alcune delle quali soffrono di mancanza di controllo. Le materie prime, ad esempio, per la loro quasi totalità, vengono importate dall'estero. E allora lo dici tu. Quale dici che le aziende italiane avevano il diritto per produrle? Cosa producono? Commercializzano, non producono. Allora, perché al professore premeva tanto a raccontare una simile vicenda? Qualche mese prima, alla frontiera, erano stati fermati alcuni personaggi legati alla ditta Fidia, mentre tentavano di portare all'estero valori per centinaia di miliardi. Lì ci fu un soffione che era un dipendente, il quale, siccome si stavano inventando che la ditta Fidia doveva fallire, e questo qui sapeva che l'avrebbero licenziato alla brutta, giustamente ha soffiato che questi qui stavano portando in Svizzera i miliardi e allora l'hanno fermati. Esisteva, e quindi non c'erano solo quei giapponesi che portavano il Svizzera, i pseudodollari, ma c'era anche la Fidia. Esisteva un legame tra le affermazioni dell'ex direttore del servizio farmaceutico del ministero a questa vicenda? Il professore comunque non vuole aggiungere altro, preferì citare un altro caso di sovrafatturazione riguardante la citicolina, materia prima proveniente dal Giappone, utilizzata per la preparazione del nicolin prodotto dalla CHAM Namid. Francesco Della Valle, ex amministratore delegato della Fidia, smantì la circostanza della sovrafatturazione. Ma ti immagini che l'amministratore delegato non smettisce, noi sappiamo perfettamente cos'era il Cronasial e quanti morti ha fatto e quanta sofferenza ha provocato. Non solo, ma nel momento in cui il Cronasial veniva tolto dal commercio in moltissimi paesi europei, io ho ripero benissimo che nelle farmacie tedesche era andata la polizia e aveva portato via tutto, in Italia il prodotto ottenne il raddoppio del prezzo. Capito, con questo io finisco però, è molto importante, dice il buon Poggiolini, i contributi che ho ricevuto mi servivano anche per opere benefiche, i contributi che aveva ricevuto, praticamente piatti d'oro, collane, tutta questa roba che li hanno, ricordate, trovato nascosti nel divano, nel puff, eccetera. E vai a vedere se non c'erano neanche i filati, il buon Poggiolini, questo è altro. Ho versato tanti soldi al Pontificio Consiglio della Pasqua. E' fuori dubbio, con essi ho provveduto a pagare anche una segretaria personale, poliglotta, niente meno, poliglotta, cioè uno che doveva tenere i contatti internazionali, sì, doveva pagare una segretaria poliglotta, cioè, sennò lui avrebbe preso che parlava il dialetto romanesco, non so il cazzo, vedete, ho pure il latino, il latino, sì, che mi era necessaria per la mia attività a livello internazionale, sì, di truffatore, ricattatore e pirata. E con questo abbiamo concluso, questa lunga, penosa trattazione. Ciao a tutti.